Amici e amiche della Voce del Diavolo e del canale YouTube Milanelò, ben ritrovati, buona estate calda e buoni amichevoli a tutti. Abbiamo fatto alcuni amichevoli, vedo che c'è molto entusiasmo per queste prime amichevoli, obiettivamente qualcosa si è visto, non è che qualcosa della mano di Fonseca mi sembra che si sia visto, peccato che la maggioranza dei giocatori che hanno partecipato a queste amichevoli non li vedremo in campo nel Milan, peccato soprattutto che tutti i nazionali non abbiano ancora potuto assimilare queste nuove indicazioni di Fonseca, non si sono ancora visti, si riuniranno a fine settimana, i nuovi acquisti che poi sono solo due per ora non si sono ancora visti e quindi purtroppo arriveremo all'inizio del campionato con una squadra che non avrà avuto il tempo di essere insieme, questo vale un po' per tutti, ecco sicuramente, però se avessimo fatto gli acquisti della campagna acquisti 15 giorni fa, 20 giorni fa, probabilmente ci sarebbe stato quel famoso amalgama o comunque qualcosa di meglio, accontentiamoci, dico solo non esaltiamoci, sento molta esaltazione per i nostri ragazzi, anche io ho visto delle prestazioni di Liberani, poi ho visto secondo me Zeroli è molto forte, Camarda può venire fuori bene, tutte queste cose qua, però non ci dobbiamo esaltare, dobbiamo farli crescere con calma, non dobbiamo mettere responsabilità su di loro, sappiamo, sappiate che di questi 4 o 5 molto bravi che abbiamo di ragazzi probabilmente ne verrà fuori uno, e che andrebbe benissimo avere un titolare finalmente, un titolare del Milan che viene della cantera di Milanello, sarebbe bellissimo, però ci vuole calma, ricordo a tutti, anzi ve lo ricorderete, no? Anni fa una partita precampionato, mi sembra era Montella, fosse Montella l'allenatore, il Bayern, il Bayern sempre di Carletto Ancelotti, Milan vinse nettamente con 3 gol di Cutrone, Cutrone che sembrò Gerd Müller, non era Gerd Müller, non è Gerd Müller, è un giocatore normale, un ragazzo che può giocare centravanti in Serie A o comunque giù di lì, un ragazzo bravo, discreto centravanti, ma certo non un centravanti da Milan, non centravanti da Milan che voglia vincere magari lo Scudetto e andare avanti in Champions, questo è giusto per ritornare nella realtà, abbiamo visto tutti gli Jamal, quelle cose lì, speriamo che anche noi riusciremo a creare un nuovo Jamal, ma con calma, senza mettere responsabilità, veniamo al Milan e poi voglio chiudere con l'Inter, veniamo al Milan, la campagna acquisti va molto a rilento, questo è un dato di fatto, abbiamo preso Morata che è un buon giocatore, abbiamo già parlato, Zirze, io ho bevuto assolutamente Zirze, ma comunque abbiamo preso Morata, una toppa di Kashmir, però Morata non fa altro che sostituire Giroud, un grande giocatore che purtroppo ormai batteva in testa, ma abbiamo messo un ottimo giocatore al posto di un ottimo giocatore, niente di che. Abbiamo preso un centrale, ho visto un paio di partite, anzi forse di più, ho visto tre o quattro volte questo Pavlovich, che non sembra male, adesso anche lì il nuovo Stam, non è che basta tagliarsi i capelli o avere la faccia cattiva per essere il nuovo Stam, vedremo comunque, sicuramente ecco perlomeno forse con Pavlovich prenderemo qualche gol in meno di testa, ecco quello sì, certo che però Pavlovich va bene ma non dobbiamo vendere ciao, ecco perché se prendiamo Pavlovich e vendiamo ciao, siamo come Giroud, esce Giroud e entra Morata, non mi sembra un grande miglioramento, vediamo. Ma la verità, la verità è che noi come l'anno scorso avevamo una priorità, le due priorità erano il centravanti che non venne preso, il mediano davanti alla difesa che non venne preso e adesso il mediano davanti alla difesa non c'è, ci siamo incartati sul discorso Fofanà, il Milan ha fatto l'accordo col giocatore però ha fatto incazzare il proprietario del Monaco che ora spara alto, spara obiettivamente troppo alto e allora dico trovate una soluzione alternativa, fate l'accordo col giocatore, non fatevi fregare come contaremi, fate un accordo che a gennaio firmi per il Milan a zero, così gli potete dare le commissioni che vuole, l'ingaggio che vuole, non dovendo pagare zero al Monaco e alla fine del prossimo campionato avremo Fofanà più un mediano che compriamo adesso, uno gratis e uno comperato che è quello che è adesso, chi? Ci sono dei giocatori argentini molto buoni in quel ruolo, ci sarebbe lo stesso Schkoiten del Bologna che è andato mi sembra giocare in Olanda, che è molto buono, non è quello un ruolo difficilissimo in cui trovare giocatori, certo magari non trovi Rijkaard, ma un simil desai lì lo trovi, un simil che sì lo trovi, quindi basta che non ci propinino la balla, in realtà parlando con Fonseca abbiamo capito che possiamo far giocare Loftus-Cic più indietro oppure lo stesso Musa ha delle caratteristiche idonee, sono balle, abbiamo visto l'anno scorso, Loftus-Cic non ha la fase difensiva, Loftus-Cic ha il fisico della fase difensiva, ma non ha la testa della fase difensiva, quindi non possiamo assolutamente mettere Loftus-Cic là dietro, come oggi non si può mettere Musa, Musa è un giocatore ancora inesplorato secondo me, bisogna lavorarci, magari Fonseca ci lavorerà e magari tra un anno potrebbe avere un ruolo del genere, ma oggi no, oggi ci serve un mediano di ruolo davanti a difesa, altrimenti prenderemo un sacco di gol, ne abbiamo presi il 68-69 l'anno scorso, quest'anno non possiamo fare altrettanto, ma neanche prenderne 65, dobbiamo prenderne 50 di gol al massimo in tutta la stagione, se vogliamo fare una stagione da protagonista, se vogliamo fare una stagione da dire, vabbè, arriviamo quarti, poi vediamo se c'è il quinto posto o meno, bla bla bla, e basta, e limitiamoci a fare un buon girone eliminatore di Champions, allora va bene tutto, ma non è questo, non è questo che alcuno di noi voglia. Quindi questa campagna acquisti batte in testa, va a rilento, va a rilento, doveva essere fatta meglio, hanno sbagliato con Zirzee, sbagliato perché hanno fatto per mesi, poi dopo hanno capito che non avevano i soldi per poter fare l'operazione, e con Fofana rischiamo di fare la stessa cosa. Poi, ovviamente, l'approccio che viene usato dai dirigenti del Milan, che sono dei grandi inesperti del settore, noi non abbiamo dirigenti grandi esperti del settore, noi abbiamo dirigenti grandi inesperti del settore che cercano di arrabbattarsi, di arrabbattarsi con i soldi in tasca però, perché a differenza di altri in Milan ce ne avrebbe due soldi da spendere, però evidentemente non basta. A proposito di soldi, fa abbastanza specie vedere come la Roma, che non ha gli introiti Champions, che ha una situazione abbastanza problematica anche a livello di fair play finanziario, comunque sta acquistando. Non sto dicendo che stiano acquistando bene. I centravanti che hanno preso hanno grandi speranze che sia il nuovo Van Basten, non mi sembra così un centravanti da Serie A molto molto buono, non mi sembra. e anche altri giocatori che hanno preso, sì, sono buoni, ma non mi pare che abbiano investito al massimo, però i soldi li hanno messi, quindi vuol dire che si può. Il più in Milan invece non ha quei problemi, perché i soldi li ha veramente, non deve essere creativo. Li ha i soldi della Champions, i soldi di... come si chiama, di Decateler, i soldi per il secondo posto, insomma ci sono, c'è questo tesoretto da poter essere investito. Speriamo che lo investano meglio, ma dovete sbrigarvi però, perché il campionato comincia, il campionato comincia tra pochi giorni. Non si può arrivare a fine agosto e non sapere ancora chi sarà, il mediano del Milan, o il giocatore del Milan, o il terzino destro del Milan. Ecco, questo si è sempre detto, aprile, maggio, anche prima, anche prima di aprire, si fanno le squadre, poi si completano. Queste cose ormai sono nel dimenticatoio. Abbiamo altre squadre che invece sono già pronte per partire, quindi partiremo con un gap ancora più allargato rispetto all'Inter, per esempio, perché l'Inter rimane così come è stata. Non ha venduto, non ha ceduto a Quno, mentre l'anno scorso aveva ceduto, quindi parte con un grande vantaggio di continuità. Cosa che noi assolutamente non abbiamo, non fosse altro, abbiamo cambiato l'allenatore e l'allenatore avrà i giocatori, come ho detto prima, molto tardi. Chiudo, chiudo sull'Inter. Non so come nominarlo, questo faccendiere, questo fotografo, questo personaggio, questo Fabrizio Corona, no? non so che lavoro fa questo qua, fotografo, non lo so, un lavoro molto particolare. Comunque, quest'uomo, quest'uomo, evidentemente è in un giro, vede cose, fa cose, vede gente, così, e sa un sacco di cose, evidentemente, per poter fare questo mestiere anche dei gossip. tra i gossip che ha tirato fuori sono stati quelli di alcuni giocatori coinvolti pesantemente nelle scommesse, questi coinvolgimenti pesanti nelle scommesse che hanno causato un paio di squalifiche di un anno per tonali e fagioni. Meravigliava il fatto che fossero solo due questi ragazzi con questo brutto, con questo brutto, di, come dire, con questa fobia, insomma, perché alla fine è una fobia continuare a giocare continuamente soldi insensate, però in alcuni casi è pirlagine, in alcuni casi è una malattia su cui non c'era scherzare. Bene, sembrava strano che fossero solo due, infatti Corona ha detto chiaramente, l'ha detto, in un'intervista ha detto no no, ce ne sono anche altri, soprattutto ce ne sono dell'Inter, ma non l'ho detto perché io sono interista. Ecco, come al solito l'Inter in questo caso indirettamente, non certo per volontà dell'Inter, credo, non mi sembra, non lo so, però non lo so, ma fatto sta che l'Inter avrebbe potuto avere dei giocatori squalificati e invece ha avuto a disposizione i giocatori tranquillamente, a differenza di altri che hanno avuto giocatori squalificati. che è già successo per calciopoli la prescrizione, è successo per tante altre cose, è successo con la Covid, è successa per qualunque altra cosa sempre al limite, di arrivare sempre al limite, ma di poter continuare regolarmente l'attività senza che queste stranezze che ci sono sul bilancio, sui debiti, sugli zang, anche lì, pensate, lo scandalo, lo dicevamo da anni, zang è uno scandalo, indebitato, delinquente, condannato e nessuno, gravina, gravina e company nel calcio italiano, mai detto niente, anzi, lo hanno definito un ottimo, un ottimo presidente e il suo sodale Marotta lo ha ringraziato pubblicamente per quello che ha fatto all'Interzang e che abbiamo capito che tipo di personaggio sia. Un saluto a tutti!